Professor Boeri, è d'accordo con la senatrice Vicari? Sono stati abbastanza impermeabili la senatrice e i suoi colleghi alle pressioni delle lobby? Diciamo subito che è un fatto positivo che le lobby siano uscite maggiormente allo scoperto. Tra l'altro vorrei ricordare che il nome lobby viene da proprio questo albergo di fronte alla Casa Bianca dove si radunavano i rappresentanti di interesse nell'ingresso dell'albergo che viene chiamato lobby e lì dentro organizzavano le loro visite per cercare di perorare la loro causa. Quindi anche in Italia ormai la cosa è diventata più esplicita. Devo dire che il decreto era in qualche modo già debole rispetto ad alcune lobby, in particolare per le ferrovie non c'è stata alcuna liberalizzazione nei trasporti, era molto debole. Era anche debole per quanto riguarda la separazione tra Eni e SNAM che poi è stata ulteriormente diluita nel corso del tempo e ha perso qualche pezzo nella conversione in legge sui liberi professionisti, in particolare le farmacie e i notai. Quindi in qualche modo l'azione delle lobby è stata incisiva, soprattutto da parte di alcune di queste lobby, anche se però l'impianto iniziale del decreto in buona parte è sopravvissuto alla conversione in legge. Io avrei auspicato un rafforzamento del decreto perché andava obiettivamente rafforzato, invece c'è stato un indebolimento, però forse non un indebolimento così forte. Professor Bueri, non si era per la verità mai visto che il Presidente dell'ABI si dimettesse contro provvedimenti del governo? Sì, in effetti mi è sembrata una reazione un po' scomposta, anche perché i provvedimenti nel decreto in realtà lasciano fuori gran parte del mondo delle banche, delle assicurazioni, dalle liberalizzazioni. Ci sono certo questi provvedimenti, come quelli che venivano appena ricordati, sull'apertura dei conti correnti da parte dei pensionati, oppure sull'abolizione delle commissioni sullo scoperto, che però sono dei provvedimenti, a mio giudizio, che sono dirigistici, cioè cercano in qualche modo di intervenire sui prezzi che le banche devono stabilire, anziché rafforzare davvero la concorrenza nel sistema bancario. Per cui non è questo, credo, il modo davvero con cui si liberalizza. Tra l'altro, appunto, liberalizzare significa appunto rafforzare la concorrenza. E qui bisognerebbe aumentare di molto la trasparenza, soprattutto in un momento come questo, in cui le banche spesso praticano in modo quasi di nascosto degli incrementi molto forti dei loro tassi che vengono praticati alla clientela, in cui ci sono delle forti ancora intrecci negli assetti proprietari di banche, imprese e assicurazioni. Ecco, su questo bisognerebbe intervenire in modo incisivo. Certamente non è facile farlo, ma è così che si aumenta la concorrenza nel sistema bancario. Invece le misure adottate mi sembrano delle misure abbastanza demagogiche di facciata che credo abbiano in realtà poca efficacia. Oggi per tutta la giornata abbiamo cercato di avere, ospite con noi, un rappresentante dell'ABI. Nessuno è voluto intervenire per spiegare, noi abbiamo detto venite a spiegare le vostre ragioni. Nel momento in cui avete il vostro presidente che si dimette contro il governo, vuol dire che è successo qualcosa di grave. Non è stato possibile avere nessuno. Perché secondo lei, professor Boeri? È assai bizzarro, visto che le banche sono tante e ogni cittadino ha praticamente quasi ogni cittadino un conto corrente, quindi ha a che fare con le banche. Perché sono così reticenti? Perché le banche in questo momento stanno facendo delle scelte che sono per certi aspetti impopolari, nel senso che stanno tagliando grandemente gli impieghi. Poi continuano a sostenere di non praticare alcuna, di concedere credito alle famiglie, alle imprese. La realtà è che se guardiamo a quello che è successo nelle strategie delle banche negli ultimi mesi, hanno aumentato, questo sì, grandemente gli acquisti di titoli di Stato per circa 33 miliardi negli ultimi due mesi, ma hanno ridotto fortemente il credito concesso alle famiglie, alle imprese di circa 20 miliardi. Quindi accedono a questa condizione di prestito, a questa lending facility che è stata creata presso la Banca Centrale Europea, ricevendo credito a delle condizioni molto favorevoli, a un tasso dell'1% e lo usano principalmente per rafforzare le loro condizioni patrimoniali e poi per acquistare dei titoli di Stato. Ma questa seconda tranche della Banca Centrale Europea porterà le banche a garantire più crediti muti a un tasso di interesse un po' più basso, meno usuraio come sostengono molti? Purtroppo non mi sembra, perché la tendenza è quella in verità proprio a stringere ancora di più il credito. È chiaro, le situazioni sono difficili, siamo in una condizione di difficoltà dell'economia, quindi bisogna chiaramente valutare con attenzione il merito di credito, alcuni di quelli che oggi chiedono il credito non sono poi in condizione di ripagare, quindi è giusto che le banche anche siano particolarmente attente a tutto questo, però mi sembra che la strategia che è stata seguita dalle banche è quella di tagliare gli impieghi, alzando in modo molto forte i tassi e questo chiaramente non è certo di aiuti in un momento così difficile come quello attuale, in cui bisognerebbe in tutti i modi contrastare la stretta creditizia.